Ora l'intervento di Luca Carna. Sì, sarò breve. Così sentiamo anche un po' dal pubblico domande, eccetera. Voglio solo dare alcuni elementi informativi del contesto della sanità lombarda, visto che più persone giustamente hanno trovato una continuità tra questi atti estremi, ovviamente situazioni estreme e raccapriccianti, e un brodo di cultura che in qualche modo giustifica, non giustifica, ma può dare adito a questo tipo di conseguenze. In Lombardia ci sono 128 strutture tra ospedali pubbliche e private, 2 milioni e 400 mila ricoveri all'anno, 160 milioni di visite ambulatoriali, e 62 milioni di ricette farmaceutiche ogni anno. Il budget della sanità lombarda sono 17,3 milioni di euro, che è il 75% del bilancio della regione Lombardia. Quindi si può ben capire che la sanità è la polpa di qualsiasi regione, a maggior ragione della regione Lombardia. Qual è lo spazio dei privati in questa regione? È uno spazio che è andato via via crescendo in questo ventennio formigoniano, con una crescita esponenziale. Attualmente i privati occupano circa il 31% dei posti eletti, sono privati, ma il 43% dei soldi stanziati e prestazioni sono dei privati, pur i privati essendo meno ancora percentualmente, anche se per poco. Come è stato possibile, non che questo sia necessariamente un fenomeno negativo, è negativo, come vedremo, ed è molto preoccupante, un'altra cosa, che va attribuita in regione Lombardia a una legge che risale nel 1997, la legge 31 del 1997. I DRG esistevano già, peraltro i DRG sostituiscono il pagamento a piedi lista che c'era prima e che faceva ovviamente preoccupare gli amministratori dell'epoca, peraltro i DRG vengono importati con un po' di esterofilia dall'America, dalla sinistra o dal centro-sinistra o al massimo dal centro. È la Rosi Vindi che porta il DRG insieme a Taroni, uno dei ideologi della sanità dell'Emilia Romagna, non c'è atto tacciabile di liberismo sfrenato, porta di regge in Italia. Quindi con le, diciamo così, migliori intenzioni, cioè con delle intenzioni di porre sotto controllo da un lato la spesa e dall'altro aumentare l'efficienza ed efficacia. Ma però cosa succede nella salsa sanitaria lombarda? è che qui sì si innesta un virus, diciamo così, di una visione che secondo me non è neanche giusto chiamare liberista, perché non è liberismo. Liberismo è una cosa molto più nobile di quello che è successo qui nella regione Lombardia. Succede che attraverso questa legge avvengono tre cose, sostanzialmente. La prima è che le ASL, prima USL, prima altro, ancora si trasformano in enti di intermediazione tra l'erogatore e il paziente e che sostanzialmente comprano delle prestazioni, vuoi da privato o vuoi da pubblico, indifferentemente. Acquistano queste prestazioni. Poi c'è il cittadino che nell'ideologia dominante allora anche adesso è colui che ha totale libertà di scegliere dove andare in base a, si immagina, la qualità della domanda tra pubblico e privato. Senza nessuna, ben inteso, senza nessuna programmazione, senza nessuna analisi della domanda e con, come vedremo, controlli a campione, quindi necessariamente abbastanza imprecisi. Infine, via la regione, che è un ente terzo, che dovrebbe controllare con questi knocker ciò che avviene. Ma appunto, come dicevo, con la rivendicazione nel proprio DNA ideologico e politico del non voler programmare, pianificare a priori, a monte, quello che secondo questo tipo di ideologia verrà magicamente regolato a valle dal libero gioco, dalla domanda dell'offerta, dall'offerta migliore, eccetera, eccetera. Questo ovviamente porta a dei grossi problemi. Per esempio, inevitabile che gli operatori privati siano più pronti, forse, anche perché mossi da una logica di profitto, a approfittare e a buttarsi a pesce sulle tariffe più, perché ci sono delle tariffe che in qualche modo possono essere reputate più convenienti, tipicamente le chirurgie, l'ortopedia ed altro, rispetto ad altre prestazioni. e poi con alcuni trucchetti di cui parlavano prima gli avvocati, come l'effrazionamento del ricovero e altro ancora, si riescono a far lievitare, a sovrafatturare. E questo fa sì, per esempio, che in Lombardia vi siano più cardio... si diceva, non so se è ancora vero, vi siano più cardiochirurgie che in Francia. Quante cardiochirurgie ci sono, quante angioplastiche vengono fatte in Lombardia rispetto... Per carità, questo ha fatto anche sì, e questo motivo d'orgoglio della Regione Lombardia, che la Regione Lombardia in questo modo sarebbe rientrata anche da quello che comunque anche in Regione Lombardia c'era, che è il deficit sanitario, perché con la promozione di queste eccellenze sanitarie si sono anche attratti moltissimi pazienti da altre regioni per un totale di 150 milioni all'anno di euro, perché poi sono le altre regioni che pagano la Regione Lombardia. Cioè, come vedete, è un'impostazione molto aggressiva, molto particolare, insomma, di una concezione in tempo totalmente diverso appunto del servizio sanitario essenzialmente come servizio. Io, 15 anni fa, con Giovanni Padovani, un altro giornalista molto attento a questi fatti, mi ero... ci eravamo divertiti su spunto di Cesare Cislaghi, che allora lavorava in Regione Toscana. Ci siamo divertiti a confrontare la sanità lombarda con quella toscana. Abbiamo pubblicato un articolo sulle scienze, il modello toscano allora, poi sono andati un po'... si sono lombardizzati un po' tutti, però, insomma, comunque il modello toscano aveva messo in piedi queste società della salute, che erano queste società in cui c'era dentro l'AS, il comune, i medici di medicina generale, che cercava di governare, ecco, diciamo, il fenomeno, tutto sommato, anche interessante, di un'ospedalità, di una sanità privata. Ebbene, nel periodo 1995-2000, vedevamo come, per le diverse impostazioni che erano state date i due sistemi, a fronte di una spesa sanitaria media simile, vi era stato in Lombardia uno sviluppo, un incremento del fatturato, del privato e anche dei lezzi, delle prestazioni, in questi 4-5 anni, di 145%, contro un incremento del pubblico del 12,7%. Questo incremento ha continuato ad esserci, la curva si è poi leggermente appiattita, perché sono arrivati a dei livelli incredibili, però effettivamente questo tipo di prevalenza del privato è non tanto ciò che è preoccupante la prevenza del privato, ma, come insegna il caso Santarita, che tutto sommato è il caso più belluino e folcloristico, di un piccolo ospedale che viveva di precariato, altro grosso problema, mi sembra di capire, da quanto ha raccontato dagli avvocati, addirittura i medici non venivano pagati come intendo all'ospedale, ma a cottimo, cioè una cosa, è successo anche in altri ospedali, ma non in questo modo. Ci sono stati altri scandali in questi anni, parliamo essenzialmente della Fondazione Maugeri, di altri ospedali, ma soprattutto il grande scandalo del San Raffaele. Lì era a sistema la sovrafatturazione, perché la dottrina di D'Acco, poi arrestato, del faccendiere Cielino D'Acco, era che il 3-5% di queste sovrafatturazioni attraverso fondi neri su estero dovessero tornare all'ospedale e poi dovessero andare in qualche modo adungere quelle ruote della sanità lombarda che avrebbero poi portato a ulteriori favori che non sono, negli ultimi anni oltretutto, non mi sembra che siano venuti solo attraverso il meccanismo in sé neutro, nel somma del DRG, ma si siano incanalati, soprattutto nell'ultimo periodo, vediamo la cronaca all'ombra dell'Expo, che è scoppiata anche in sanità in questi giorni, molto nei grandi lavori dell'edilizio ospedaliera, pensiamo al grande affare che è scoppiato intorno all'infrastruttura lombarda che è questa struttura regionale che ha centralizzato tutte le grandi opere, tra cui anche quelli ospedaliere, pensate all'Iguardo, è stata negli ultimi 15-20 anni una storia di scandali che avrebbero dovuto aprire gli occhi, tutto sommato anche gli amministratori, per far sì che il contraveleno di questa situazione, cioè i controlli, il monitoraggio costante, diventasse diverso da quella cosa molto leggera che invece è stata. Il problema quindi non mi sembra solo e tanto lo strumento di DRG, mi sembra che se quello strumento era stato introdotto in Italia per cercare di superare quella lottizzazione politica, per esempio, che peraltro infestava la sanità anche prima dei DRG, questo non è avvenuto, anzi il contesto politico e affaristico nella sanità lombarda è continuato, la moralità, gli standard morali, i costume che accompagnano questa classe politica si è ovviamente espressa nella più grande greppia della sanità in modo assolutamente... e diciamo che il sistema ha consentito questo tipo di sfruttamento. Brevissime considerazioni a margine di questa cosa. Prima cosa, io nel caso della Santa Rita l'ho conosciuto e l'ho anche vissuto in prima persona battagliando, non stranamente in questo caso, non nello specifico medico, non per ciò che era successo con Brega Massone, ma per un altro aspetto che mi ricorda molto però questo aspetto sanitario, che è l'aspetto urbanistico. Noi abbiamo costituito un comitato che si chiamava Contro l'Elefante con altri amici per contrastare questa cosa folle della crescita spropositata in questa città giardino, vogliamo chiamarla così, in quella parte quasi di città studi, dove queste villette sono state comprate una a una dal notaio, di sondro mi sembra, per farne in un modo assolutamente demenziale anche sotto il profilo della sicurezza, dell'architettura, della funzionalità, un ospedale, senza prevedere più posti macchina, senza prevedere parcheggi, con anche fenomeni assurdi di congestione urbana. Perché dico questo, che mi sembra non centrare? In realtà c'è uno straordinario, io noto, oltretutto io ho tutto un passato, un presente di ambientalista nelle schiere d'Italia nostra, ho seguito quasi di più questi temi di quelli della sanità. C'è uno straordinario parallelismo oggi in Lombardia tra l'urbanistica e la sanità. C'è lo stesso concetto della mancanza di regole, Maurizio Lupi, ministro dell'attuale governo, è il grande maestro di questa urbanistica contrattata, del rito ambrosiano, senza regole, togliamo gli standard, non pianifichiamo, la peggiore parolaccia che potete sentire per alcuni è la parola pianificazione, programmazione, controllo. pianofichiamo, pianofichiamo, pianofichiamo. Quindi questo è un primo aspetto così interessante, perché, voglio dire, lo spirito dei tempi non spira solo sulla sanità, ma dappertutto, anche sul governo del territorio, solo in parte corretto, purtroppo. Un secondo punto che ho già accennato prima è che questo liberismo non è un liberismo, cioè, al confronto i liberisti sono dei santi, degli eroi. Questo è un finto liberismo, perché qui, in realtà, c'è stata una lottizzazione che ha determinato l'arricchimento di grandi gruppi a spese del pubblico, non è che se li sono guadagnati nel mercato privato, si sono fatti accreditare e hanno guadagnato sul pubblico. E' tanto poco liberismo che sono nati a Milano e, nel bene e nel male, dei grandi gruppi concentrazioni monopolistiche, pensate, per esempio, al gruppo Rotelli, che adesso ha preso in mano anche il San Raffaele. Giusto per dargli un dato di quanto gigantesco sia questo gruppo, La Sanità di Dio, Ferruccio Pinotti, un libro molto interessante. Parliamo di 5329 posti letto, 199.053 ricoveri, 263.028 pazienti, 15.000 lavoratori e 1.400.000.000 di euro. E' bene nel male, non dico che se ne sia detto male, ma rendiamoci conto che ci sono queste grandi concentrazioni. Ultima osservazione, volevo provare anche io a rispondere alla domanda fatta all'Avvocato Vanzari. Com'è possibile che fra i medici non sia scattata a un certo punto la rivolta o comunque la segnazione, insomma di questi orrori che ci sono stati raccontati, pur facendo la tara sul cinismo estremo delle conversazioni telefoniche tra chirurghi su cui è nato anche un genere nel mondo medico quasi letterario, insomma, è noto che il chirurgico è cinico per natura, insomma, e lo vuole anche in qualche modo o meno con i suoi pari forse un po' mostrare questo lato. Beh, qui effettivamente hanno ragione coloro che hanno detto che non è una situazione poi così eccezionale ma ci se la poteva aspettare. A me ricorda un giallo alla due rematte, cioè un contesto in cui questa cosa pian piano si forma, c'è una sorta di anestesia morale che si crea nei medici di fronte a certe situazioni che sono frutto di una serie di fattori, un'estrema tecnicizzazione, parcellizzazione ma anche precarizzazione dell'atto medico. Cioè, intere equip mediche che vivevano sul fare 10 o 20 polmoni è una forma di, come dire, degenerazione estrema della medicina che non è poi così diversa da degenerazioni e scadimenti simili che abbiamo in altre professioni. io voglio stare sul mio, nel giornalismo c'è stata una precarizzazione uguale se non maggiore che ha portato a quelle caricature di inchieste che vengono fatte per lo più oggi perché se non ti danno 1000 euro ma te ne danno 100 tu non vai a fare il giro di taglio per fare un'inchiesta apri internet per due ore per scrivere articolo. quindi voglio dire non nulla di nuovo ma sicuramente questo questo aspetto di anche di incertezza del lavoro di precarizzazione non giustifica ovviamente questi atti ma li mette in un contesto che forse vi rende un pochino più comprensibili. Grazie. Applausi Grazie.